Ma tu, Signore, fa di me la terra buona, tu coltiva mie e semina nel cuore la parola. Gesù gli disse, per la durezza del vostro cuore gli iscrisse voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore è buono e grande nell'amore. E l'amore di Dio è eterno, come ci diceva ieri sera padre Antonello. E' fecondo, è fedele. E Gesù già da queste ultime domeniche sta facendo fatica a farci guardare il mondo e il cammino che lui vuole percorrere fino a Gerusalemme con gli occhi dell'amore. Per Pietro è stato difficile se è beccato quel bel rimprovero «Vai dietro a me, Satana». Per i discepoli lungo la strada è stato difficile capire ancora quest'amore grande che Gesù vuole ancora oggi rivelare a noi. Discutevano chi fosse il più grande. E sì, le vie del Signore non sono le nostre vie, l'amore è così distante da noi. Ma Gesù ci vuole portare su questi Suoi occhi, su questo Suo cuore che l'amore infinito di Dio ed eterno per l'uomo, come ci ha detto la seconda lettura, vuole salvare l'uomo a tutti i costi. Dio ha un grande cuore dare, santificarci e darci la pienezza della Sua santificazione sulla croce. Lui marcisce per amore, perché l'amore marcisce. Se il chicco di grano non cade nella terra e non muore, non produce frutto. E la logica dell'amore è la croce. E gli scribi lo mettono alla prova. Stavolta non sono i discepoli. Lontani dai binari di questo amore. Ma anche quegli scribi farisei che sapevano tutto di Dio, della religione, eppure stiamo attento, cristiani, conosciamo bene le regole, conosciamo bene le norme, ma non conosciamo la passione e il cuore di Dio, che dà l'origine a un solo disegno, la salvezza del mondo. E sì, Dio non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo ed elevarlo. Ma l'amore, come dite qua, non è brodicicile, è pasta e faciola. Lo traduco. Non è tebbi, fioretti, cuori che si illuminano, lampadine che luccicano, giuitta, moruccio. E poi, quando saliamo sulla croce, ognuno passa la strada. All'eva di chiù per gioco. La mattina è una domanda. E qui dove sono finiti i cuoricini lampeggianti. Perché l'amore o lo è. Io ricordo una cosa che mi ha toccato. Sono quelle cose, e quello è l'amore vero. L'amore fedele, lo diceva Padre Antonello, eterno. L'amore di Dio che si incarna e tu lo vedi. Perché la cosa bella di ieri di Padre Antonello è stata questa. Ci ha portati a dire che nell'universo, già dalla sua origine, Dio ha scritto l'amore. E l'amore ha solo un linguaggio. Infatti ho un episodio bello della mamma, di mia mamma, di mia nonna Caterina. Quando è morto mio nonno Pietro, mio nonno Pietro è stato tre anni allettato. aveva una casa moderna, moderna, non di quelle che abbiamo noi, quelle moderne, quelle nostre sono antiche. Avevano una stanza da letto un'altra nasciata e una cucina un'altra 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 un'altra. Dunque ero un po' come me, una parrocchia, una banna, un'altra 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 un'altra. E' stato per tre anni. E c'era sempre una... Quando è morto mio nonno, io andavo a trovare mia nonna, vedevo sta lampadina accesa nella stanza di mio nonno. Mio nonno non c'era più. Lei puntualmente ogni giorno andava a accendere la lampadina, quella luce era. E ho detto io, ma questo è amore. Diceva ieri sera Padre Antonella, è eterno. Neanche la morte lo uccide. Neanche la morte lo separa. Eppure io non vi sto mai a me nonno che ci mannava a te, bebì, ci ridi. E allora qua c'è qualcosa di strano, o no? Qua c'è qualcosa che... E' vero? Dite me. Ora Gesù, lasciamo stare queste leggi. Mose, per la durezza del vostro cuore, Papa Francesco, Padre Mario, cerchiamo di... Perché la nostra è la misericordia, cerchiamo di salvare gli uomini, ci ancoriamo, cerchiamo anche di cambiare le regole, cerchiamo di essere misericordi, oggi la misericordia ancora di più, perché sappiamo che tante coppie nascono già fallite, prima ancora, che nascono. Perché c'è una immaturità psicologica, c'è una fragilità, ci sono tanti problemi, ci sono tante scelte superficiali, c'è un mondo che ci ha confuso. Quando due ragazzi si presentano per chiedere il matrimonio, tante volte non sanno manco chi lo stanno facendo. E noi, per la durezza del cuore degli uomini, come Mosè, dobbiamo accogliere, possiamo essere rigidi, giusto, non possiamo chiudere le porte e separare i cattivi dai buoni, divorziati, dai noi divorziati. Cerchiamo di essere misericordiosi, però non capite male, Dio non ha cambiato la legge originale. Dio non ha cambiato l'amore, l'amore è quello. Non è stato cambiato niente. E neanche Papa Francesco ha cambiato niente, neanche Padre Mario, non perché accogliamo, non perché noi invitiamo tutti a guardare in alto. Siamo nati aquile per volare, siamo nati per assomigliare a Cristo, all'amore di Dio, a quell'amore eterno, eterno. Ma quell'amore è fecondo, che genera, che dona vita, che sa morire ogni giorno, che sì, ogni tanto volano i piatti, ma poi, come ha detto Papa Francesco, la sera ci chiediamo scusa e perdono. Quell'amore è fedele, fedele, non che appena comincia una bella figliola non fa vivere qualcosa di più, non muoce in mente. no, figliolo, siamo così diventati spazzatura? Creiamoci una spina dorsale. Io oggi le famiglie, lo sai perché le rimprovero? Qui sono duro io. Perché i figli hanno dato casa, soldi, e ci sono tanta pace in marcia, tutti depressi, perché dopo aver fatto una vita di sacrifici, i loro figli sono tutti scumanati male. Ma per chi? Perché non gli hanno dato il sacrificio. Una spina dorsale, pronti a un amore eterno, fedele e fecondo. Questi sono i più grandi genitori e che non l'hanno dato con i soldi, con l'economia, ma l'hanno dato prima di tutto con la testimonianza. E con… perché quando un giovane arriva con una bella spina dorsale, pronta ad essere fedele nelle sue promesse, ad essere forte nelle battaglie. Io infatti alle coppie che sposo do un augurio che in un penultimo matrimonio sono venuti a dirmi padre per favore non la usi questa frase che ci possiamo impressionare. E io un po' mi sono… mi sono… me la sono presa. Perché io non la dire questa frase? Io perché io do un augurio che non piace. Qual è? che in questa vita devi magliettare sangue. E non è che sto augurando questo, ma sto… dico il dopo, che in questa vita devi magliettare sangue e l'augurio più bello è che possiamo essere sempre eterni, dunque mai voltarci indietro. Ho portato avanti una famiglia, ah, lì sta la bicicletta, padala. Io mi faccio parrino, mi faccio sangue, fino a sera, faccio busci, e che faccio? Mi volgo indietro? No, andiamo avanti. Se no non amo Gesù con il mio cuore, non amo Gesù con la mia… non è che mi abbucca. Diventiamo teologi, diventiamo un buon signore, oh, uscino da quest'altare. Per padrenino ce la sto facendo, ma me la faccio pure per mia. Capito? Pedi in faccia. E va bene. Infatti qualcuno che è rimprovero in chiesa, loro lo sanno qual è la mia predica, quella di Matteo, chi prende in mano l'aratro e si volge indietro non è adatto per il Regno dei Cieli. Chi ha fatto questa festa della nocciola e dice non ne faccio più, non l'hai fatto per la Santuco, non l'hai fatto con amore, perché l'amore è… non l'avete dimenticato? È fedele, sono tutte mascate, bravo. È fecondo. Dunque, quando la vi ama la chiesa, ma non mi dice uno grazie, e allora non stai amando Gesù. Ma quando fai un servizio e mi tiro le pietre in faccia, continua ad amare. Come dice Teresa di Calcutta, ama e non gli importa a nessuno, continua ad amare, perché l'amore è questo. Ma nella famiglia ci sono problemi, ricordati della fedeltà del matrimonio, ricordati che morendo ogni giorno all'egoismo stai facendo nascere figli belli, figli grandi, figli meravigliosi. Questo è l'amore di Dio. E questa è la creazione che genera. Questo è il profumo di nocciola e di festa, perché le nostre diversità le abbiamo messe insieme e le abbiamo incarnate nell'amore di Dio. E allora stasera che dice, ma è più? Sanno che le bestemmie di questa parrocchia, sapete quale sono? Passo Mario, basta. Chi? A teni dopo. Come basta? Andiamo avanti. Andiamo sempre avanti. Continuiamo ad amare. Continuiamo a fecondare questa terra, come ha fatto Sant'Ugo, che ancora dopo otto secolo non si è stancavo. Eccolo, come non lo sopporta? Perché il suo amore è eterno, il suo amore è fecondo, il suo amore è fedele. Non ci ha traditi mai. Non mannavo l'acqua a tutta forza, perché se dici l'acqua a Sant'Ugo, ma è stato fedele, perché dice, due anni vi regalo, solo per tutti. È stato eterno, perché non viene mai meno al suo amore per questa terra, ed è fecondo. Che bella vedere questa Chiesa e questa Abbadia Vecchia, che a posto di morire, come dicono tanti, rinasce e ricolora di luce e i cuori. Allora amate come Dio. Non cercate le leggi, la durezza delle norme. Non cercate che la Chiesa approvi il divorzio. Non andate a rete a tutte queste grattacapi. La legge di Dio è amore. Basta. Ama, ama. Ama eternamente. Ama con tutto il cuore. Ama. E se poi nella vita cadi, rialzati. E se poi la tua vita falliva nel matrimonio, e speriamo che il Signore ti aiuti e ti faccia andare avanti. Risolleviamoci tutti, ma sempre avanti. Non guardiamo i nostri peccati, ma guardiamo di assomigliare a Cristo e di assomigliargli sempre di più. Non nella logica della grandezza degli scepoli, non nella logica di questo mondo, ma solo nella logica della creazione. perché il disegno del matrimonio è quello che oggi ancora volta rinnoviamo qui nell'Eucarestia. Mangeremo il suo corpo, berremo il suo sangue e diventeremo una cosa sola con lui. Ma lui ci sta amando eternamente, perché ancora celebra l'Eucarestia per noi. Ci sta amando fedelmente, non ci ha traditi mai Gesù, e ci sta amando con fecondità. Perché noi alla fine dell'Eucarestia diremo non siamo più noi che viviamo, ma lui che vive noi. E da questa Chiesa uscirà una sorgente d'amore. Diciamolo al contrario. Ma noi così siamo nell'Eucarestia, siamo pronti all'amore eterno per Gesù, siamo pronti ad essere gli fedeli, siamo pronti ad essere con lui fecondi. O Gesù, mandi il tuo spirito e rendici sacramento visibile del tuo amore nella nostra vita, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Perché l'amore sponsale è l'immagine più grande della creazione, della salvezza e della rinascita. Tutto il Vangelo, infatti, di Giovanni è iniziato Gesù dalle nozze di Cana. E tu, Maria, ancora torni qui a Badia Vecchia a dirci il messaggio più bello. Fate tutto ciò che lui vi dirà. E se è la cosa che Gesù ci ha detto oggi è diventare bambini. Perché bambini sono pronti sempre ad accogliere tutto l'amore che gli viene dato. Grazie Gesù. Lode a te. Lode insieme a Sant'Ugo. Lode in questa Chiesa. Lode e oggi con gioia cantiamo le tue meraviglie e l'odiamo il tuo amore per sempre. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Tu coltiva mi e semina nel cuore la parola.